Il conto alla rovescia per la notte rossa Avis è già iniziato. Il 4 luglio è sempre più vicino per una serata ricca di eventi in 15 punti della città. Piazza del Duomo accoglierà l'evento principe, ovvero nostalgia 90, poi altra musica, spettacolo, magia, sport e tanto altro per piccoli adulti. Divertirsi è il monito apparente, sensibilizzare invece sicuramente il verbo trainante che ha portato l'evento alla dodicesima edizione e che tutti gli anni cresce insieme alle persone che si avvicinano alle donazioni. L'importanza di questa iniziativa è che poi le persone veramente vengono, nessuno ti dà un numero falso di telefono, vengono a fare gli analisi perché ora si fa prima gli analisi e poi la donazione, sicché c'è stata veramente la città che partecipa a questa cosa. Il tutto nasce dal 2013 quando con Paolo Ruffini si riempì la piazza di martedì e lì il comune su questa vicenda è stato molto sensibile e ci ha dato ogni anno il palco e da allora si fa questa notte rossa che è veramente per noi molto molto importante. L'Avis ci offre un momento in cui ci divertiamo, ascoltiamo musica, stiamo insieme, però non dobbiamo scordarci di fermarsi anche un attimo al loro banchino per capire come si fa a donare e soprattutto magari prenotare la propria prima donazione di sangue. È molto importante e ecco divertiamoci, stiamo insieme, però anche solo un minuto per fare un gesto che è il più bello di tutti perché quando si dona il sangue questa busta di sangue parte e raggiunge una persona che non conosceremo mai quindi una donazione anonima ma può salvargli la vita. Quindi grazie all'Avis e viva la notte rossa. C'è una grandissima attenzione al territorio e quindi anche alle esigenze del territorio. Avis è una di quelle associazioni che ovviamente è determinante e importante per tutto il territorio. Il sangue come sappiamo, specialmente in momenti di bisogno, è determinante. Noi abbiamo fatto un'attività estesa non solo a Pistoia ma anche ai comuni di Aliana, Quarrata, Casalguidi proprio per incentivare l'apporto e poter avere più donatori possibili all'interno di questo grandissimo lavoro che già sta facendo questa associazione.